Il programma è presentato da J-Wanna, Tom Boxer, Morena, let's go! You can make me fall in the love, deep in love You can make me fall in the love, deep in love Ragazzi, mi sessual, questa sera qui con me c'è il mitico Mr. J Vocalist della serata dal Gata Agora Non c'è anche conduttore di SS Unico, ragazzi mi raccomando guardatelo Germano, come procede la serata? Innanzitutto buonasera a tutti, ovviamente mi scuso in anticipo perché qui non si capisce nulla L'audio è fortissimo, oltre che c'è tantissima gente Beh, le immagini ovviamente parlano chiare, l'università è stracolma Penso più piena di notte che di giorno Comunque, ottima serata, complimenti ai ragazzi dell'associazione Agora E poi ovviamente ringrazio le telecamere di Mr. Student Che grazie al programma SS Unico mi ha fatto chiamare ovunque Ovviamente scherzo Germano, chi sono gli artisti di stasera? Stasera ci sono un gruppo che diciamo faranno un tributo ai Daft Punk Quindi ci sarà un live set speciale Complimenti a loro perché veramente è un gruppo emergente Molto, molto, veramente molto bravi Quindi li aspettiamo con ansia Nel frattempo apriamo noi la serata con Ezio Marotta, Alessandro Manzo E poi ci sono io, la voce, Mr. Gea ad animare un po' la serata Ultima ma non meno importante domanda I tuoi progetti personali e futuri insomma? Personali e futuri I personali li lasciamo a me, va bene Futuri nell'ambito lavorativo Beh, con il gruppo 3C Chic Sabato 13 ottobre siamo all'Al 51 Club Ci sarà la mia voce in console e tutto il mio staff Ovviamente vi aspettiamo quindi sabato sera al 51 Vi aspettiamo Ragazzi mi raccomando, mi rinuncio al 51 Un saluto da Mr. Student Un saluto a tutti gli amici che seguono sempre Mr. Student Ciao Ciao Grazie a tutti